Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLE dove c'è un chilometro di coda per lavori al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Si segnalano code per un incidente avvenuto al chilometro 21 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Per quanto riguarda le autostrade in A1, attenzione al camion fermo in avaria tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre verso Roma, veicolo fermo in avaria tra Valdichiana e Chiusi Chianciano. Guidare con prudenza per la presenza di personale sulla strada in direzione Bologna tra Fabro e Chiusi Chianciano e tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!